Quando hai le tue abitudini su delle cose che vanno semplificate, stai meglio nella vita, perché ti togli la fatica decisionale. Non voglio avere 10.000 account di moda, mi piacciono, mi piace la moda, mi piace vederla, ammiro chi ha tutto l'accessorio, tutto perfetto, ma ne ho davvero bisogno io nella mia vita? Quindi chiedersi dov'è il superfluo, il superfluo nel gossiping, il superfluo nello stare in conversazioni inutili, di protrarre dei meeting inutili. Ecco, è lì che dobbiamo fare il 20-80% e questo in Thailandia funziona molto bene perché la vita è più semplice. Ciao e benvenuto benvenuta in questo nuovo episodio del podcast di Ralice. Oggi puntata tipo story time, quindi vi piacciono sempre moltissimo queste puntate, però è uno story time un pochino anche intrecciato con qualche consiglio, perché oggi parliamo di Thailandia, paese in via di sviluppo orientale, mentalità diametralmente opposta alla nostra, versus Italia, paese occidentalizzato del primo mondo, se così vogliamo dire, completamente dalla esatta mentalità che si oppone a quella thailandese. Da dove nasce questo story time? Da una domanda pressante da quando sono stata in Thailandia e cioè la domanda del torneresti a vivere lì. Vi darò la risposta che comunque è completamente irrilevante quello che farei io per voi, però soprattutto questa domanda che ci siamo posti anche io e Michael, ma anche l'anno scorso perché siamo stati anche l'anno scorso in Thailandia con i bambini, una domanda che ci ha posto diverse riflessioni che vorrei condividere con voi perché secondo me sono riflessioni interessanti nel percorso di crescita di una persona, a prescindere dal fatto che uno si ponga o meno il problema di andare a vivere in Oriente o in un altro paese e soprattutto vi propongo cinque cose che mi porto dalla Thailandia in Italia, nel senso che non andando a vivere lì, spoiler spoiler della risposta sicuramente a breve termine che non torneremo a vivere lì. Ci sono comunque cinque atteggiamenti, modalità, consigli che voglio proporvi se volete vivere una vita un pochino più zen, un pochino più tranquilla, più felice in generale qui in Occidente grazie alle lezioni imparate in Oriente. Quindi iniziamo subito perché c'è tanta carne al fuoco in questa puntata, mettetevi comodi ovunque voi siate perché oggi appunto è un po' uno story time. Partiamo dal background, io e Michael ci siamo conosciuti in Thailandia, chi ha letto il libro, chi mi segue lo sa, insomma non starò qui a parlare di ogni dettaglio, però entrambi vivevamo in Thailandia, a Chiang Mai, un paese nel nord che io vi consiglio assolutamente di visitare, perché anche questa è una domanda che mi fate spesso. Cosa posso visitare in Thailandia? Ragazzi io non lo so, nel senso che non sono una guida turistica, faccio molta fatica a rispondere a questa domanda perché non è il mio lavoro, quindi vi posso dire quello che piace a me, perciò il mio consiglio per quello che piace a me è di andare nel nord, non ve lo potete perdere perché per me è la vera Thailandia, ma forse lo è perché io ci ho vissuto lì, è iniziato da lì il mio viaggio, quest'anno ho avuto l'opportunità di essere a Phuket, diciamo che non è stata la mia preferita perché l'ho trovata già più contaminata, molto più contaminata e poi io vi parlo comunque di Chiang Mai di dieci anni fa ormai, quindi non lo so oggi com'è, perché non ci sono tornata, sarà la prossima tappa nel prossimo viaggio in Thailandia, però vi consiglio anche di non stare solo nelle isole e nel mare. Quindi io e Michael ci siamo conosciuti in Thailandia e entrambi abbiamo un amore spassionato per questo paese, entrambi siamo stati bene lì, siamo proprio stati bene, abbiamo ritrovato noi stessi per motivi diversi, quindi io arrivavo col cuore spezzato, Michael arrivava con desiderio di libertà, desiderio di esplorare se stesso il mondo ed entrambi con il sogno di creare un business digitale senza sapere bene che cosa significasse ai tempi. Le nostre strade si sono incrociate, tra l'altro il 29 febbraio, il primo giorno che ci siamo parlati, ci siamo conosciuti letteralmente il 29 febbraio che è una data per me, insomma l'universo mi dà un segno, una data molto speciale, molto rara e infatti ho conosciuto una persona molto speciale e decisamente unica, quindi ci siamo incontrati lì e quindi da marzo a giugno siamo stati in Thailandia, poi siamo tornati in Europa, siamo stati in Canada, poi siamo tornati per un periodo in Thailandia insieme, questa volta a Colanta e abbiamo visitato anche tutta la penisola di Krabi e per chi ci segue da anni sapete che abbiamo due cagnolini adottati dal canile che si chiamano Krabi e Lanta, proprio per questo motivo, insomma la Thailandia è un posto importante per noi, dove siamo stati bene, quindi nel momento in cui io e Michael abbiamo deciso di avere una famiglia, non troppo più tardi da quando ci siamo conosciuti, nel senso che Sebastiano è nato nel 2018, noi ci siamo conosciuti nel 2016, quando abbiamo deciso di avere una famiglia ci siamo chiesti dove volessimo vivere e la Thailandia era una delle opzioni ovviamente, perché per noi era possibile, era viabile, peraltro io nel tempo ho conosciuto anche tante famiglie di persone occidentali che avevano vissuto la vita dei loro figli piccoli in Thailandia, in particolare c'erano queste due signore americane che avevo conosciuto, ero stata anche ospita a casa loro e avevano vissuto tutta la infanzia e l'adolescenza dei bambini in Thailandia, i bambini erano cresciuti, cittadini americani, nel tempo del college avevano deciso appunto di tornare negli Stati Uniti, i genitori erano rimasti in Thailandia e per loro era stata una scelta meravigliosa, tra l'altro una Thailandia ancora probabilmente incontaminata ed era stata la scelta di farli vivere in un posto più lento, in un posto meno occidentale, in un posto meno complesso per tanti punti di vista, con i suoi pro e i suoi contro, quindi ci siamo chiesti e la risposta è stata, la risposta finale era stata un no, un no dovuto a motivi organizzativi, nel senso che la Thailandia è lontana da tutte le nostre famiglie di origine, quindi questo avrebbe significato per noi viaggiare ogni anno per entrambe le famiglie, viaggi molto lunghi, viaggi dispendiosi, ai tempi non sapevamo se avremmo potuto permettercelo insomma di viaggiare così tanto e quindi escludere completamente le persone vicine dalla nostra vita non ci è sembrato per noi in quel momento qualcosa di fattibile. Altri motivi erano magari il tempo atmosferico, non è sempre il migliore, c'è la stagione delle piogge, poi la scelta di dove vivere. Chiang Mai, Bangkok, Bangkok è una grande città, non si addiceva molto a noi e alla fine soprattutto credo che ognuno di noi prenda le decisioni in base al proprio sistema dei valori, quindi dentro di te, a prescindere da tutte quelle che sono le motivazioni razionali che cerchiamo di darci per giustificare le nostre scelte, perché quando facciamo una scelta grande cerchiamo sempre di confermarla attraverso degli assunti comprensibili a molti, cioè se io vi dico non siamo andati lì perché era lontana dalle nostre famiglie, voi dite sì sì hai ragione, cioè ha senso. In realtà io penso che sia stato uno il motivo principale, che è quello valoriale. Io e Michael entrambi abbiamo molto forte, molto presente il valore della crescita della realizzazione, siamo entrambi mossi dalla realizzazione professionale ma anche quella personale e la Thailandia ci sembrava un paese magari un po' più lento su questo punto di vista, non avremmo potuto creare quello che abbiamo creato qua e quello che stiamo creando qua, che per quanto ci possa in un certo senso stressare è qualcosa che ci rende realizzati, qualcosa che vogliamo in questa stagione della vita, una stagione della vita della crescita. Mentre la Thailandia essendo un po' lontana da tutto ci avrebbe permesso di avere magari un lifestyle di un certo tipo ma non era completamente allineato ai valori. Perché dico questo? Perché ognuno di noi poi è diverso, quindi magari persone che hanno un valore, il valore dell'avventura molto forte, starebbero benissimo lì perché sarebbe sicuramente una vita un po' più avventurosa. Chi ha un valore magari molto forte della sicurezza non avrebbe neanche pensato un secondo di vivere in un paese in via di sviluppo, della tradizione, perché comunque ci sono delle differenze molto grandi. Cioè per qualcuno che è cresciuto nel mondo occidentale vivere lì sicuramente hai tanti compromessi da fare. Per quello che dico non c'è una scelta universale in questo, c'è una scelta basata sui valori. E insomma ai tempi avevamo deciso di non andare a vivere in Thailandia e avevamo invece deciso di vivere in Canada. Poi la vita, rimasta incinta della seconda figlia prestissimo, non pianificato, voluto, ma non pianificato così presso e il fatto della pandemia e la crescita dei nostri business ci hanno portato poi a tornare in Italia per avvicinarci insomma al nostro business, per avere diverse opportunità. E oggi eccoci qua. Il punto è che quando torniamo in Thailandia ci sono delle cose che ci mancano, perché anche quando scegli in base ai tuoi valori non è che le altre opzioni automaticamente diventano brutte e cattive. Ci sono comunque dei di pro. Quindi anche scegliere dal punto di vista valoriale non è sempre facile, perché comunque ci sono delle situazioni, delle scelte che hanno dei punti positivi per te, anche se tu a livello valoriale, se ti guardi davvero dentro, hai fatto un'altra scelta. Che comunque confermiamo, spoiler spoiler, nonostante le domande molto pressanti del ma avrebbe senso tornare a vivere qui, adesso che abbiamo la nostra famiglia, che i bambini insomma potrebbero apprezzare questa vita qui, avrebbe senso e la risposta è stata comunque ancora ad oggi no. Poi io la sfera di cristallo ancora non ce l'ho e quindi mi lascio comunque tutte le porte aperte, perché puoi mai dire mai. La vita ti mette davanti delle situazioni che magari ti fanno anche cambiare idea. Io sono sempre pronta a cambiare idea, come sapete. Però ad oggi rimaniamo coerenti con la nostra scelta. Però ci sono delle cose, ragazzi, che io quando vado lì sto bene. Cioè ci sono delle cose che mi fanno stare bene, ma bene bene e quindi è difficile lasciarle andare quelle cose. E faccio un'altra premessa qua, è l'ultima premessa prima di passare ai cinque consigli, che fa parte un po' della storia. Voglio farvi ragionare, perché in molti in questo periodo thailandese mi avete chiesto, ma si vive meglio lì? Secondo me sarebbe la cosa migliore, perché lì c'è una vita più lenta, perché lì c'è una vita più zen, perché lì c'è una vita più significativa, perché lì c'è il buddismo, quindi la popolazione sta meglio, eccetera, eccetera. In modo semplicistico sì, però in modo un po' più analitico, cioè da quella che è la mia analisi, è che in realtà i paesi, cioè il paese Thailand è un paese in via di sviluppo e quindi ha problemi dei paesi in via di sviluppo. Quindi hai dei problemi magari sanitari, avere accesso, non dappertutto, però in alcuni posti, avere accesso alle cure giuste, avere accesso alle strutture giuste, c'è una codice della strada che lasciamo perdere, non c'è praticamente il wild andare per strada, quindi molto pericoloso, muoiono tantissime persone per strada, quello è il problema più grande della Thailandia. Poi anche i sistemi comunque burocratici, governativi, non sono sistemi sicuramente occidentalizzati, non sono sistemi efficienti e voi direte ma neanche l'Italia lo è. Sì, però vi assicuro che è diverso essere protetti dalla polizia italiana, che ti succede qualcosa, hai bisogno, o magari dalla polizia thailandese, che ecco se non sei magari un nativo lì ci sono tutte delle dinamiche da dover capire e la maggior parte della popolazione vive nella povertà, anche se non è come la Cambogia, Myanmar, Laos, che sono tutti confinanti, che sono veramente più poveri e anche se è vero che il fatto che ci sia la religione buddista sicuramente porta le persone ad avere un certo tipo di attitudine, è anche vero che se tu vivi con uno stipendio Thai, vivi nell'economia thai, adesso così bene magari non ci stai, cioè ci sono altri problemi, non è che così bene non ci stai, perché di nuovo ognuno di noi penso che debba capire cosa riesce a gestire. Mi spiego meglio, un problema per me può essere molto difficile da risolvere, difficile da accettare, una condizione per me, per qualcun altro molto meno. Ognuno di noi ha diversa tolleranza per diversi tipi di problemi, data dal nostro vissuto e anche lì dal nostro sistema di valori. Quindi per qualcuno vivere magari veramente nell'essenziale, con niente, con un difficile accesso a un certo tipo di sanità, eccetera, assolutamente non è così problematico come vivere nello stress degli occidentali, perché noi occidentali dall'altro lato abbiamo problemi occidentali. Tutto sommato abbiamo un paese che è civilizzato, civile non lo so, ma civilizzato, e quindi i problemi più grandi oggi sono problemi comunque di stress, abbiamo problemi magari di gender gap, abbiamo problemi di fare una carriera più o meno interessante in un'azienda, cioè avere life work balance. Chiaro che quando io sono un Thai, che sono nato in Thailandia da una famiglia magari di campagna e ho il mio piccolo tuk tuk dove ho anche, faccio da mangiare mango e sticky rice, questo è quello che faceva la mia famiglia e ogni mattina mi sveglio e devo andare a prendere il mango, devo andare a prendere il riso, tutto il giorno cucino questo, ce l'ho meno il problema della vita, del bilanciamento vita-lavoro. Non so se riesco a spiegarmi su questo concetto, che problemi diversi attanagliano situazioni diverse nel mondo. È chiaro che come occidentale, con uno stipendio occidentale, con la possibilità di tornare nel mio paese di origine qualora avessi bisogno, così andare a vivere in un paese in via di sviluppo non è poi così male, perché comunque vivi in condizioni economiche agiate, hai magari accesso a un'assicurazione sanitaria di un certo tipo, è un altro tipo di vita, quindi questo sono d'accordo su questo. Volevo comunque darvi quell'input che non esiste il posto perfetto, anche perché ho avuto la fortuna di poter vivere negli Stati Uniti, nel Canada, quindi nell'Ord America, in Europa, ovviamente in Italia e anche in Oriente, in Thailandia, comunque che è uno dei paesi che sta meglio rispetto a tutti i paesi che stanno all'intorno, e non c'è il posto perfetto. C'è il posto per te, c'è il posto che tu senti che dovrai poter costruire la tua vita, ma non c'è il posto perfetto. Quindi per quanto in Thailandia ci siano delle cose che io amo follemente, 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 in questo momento non è il posto per noi. E vi volevo invitare a fare questa riflessione del fatto che problemi diversi per, diciamo, situazioni diverse di diversi paesi. E adesso passiamo però a quelle cinque cose che io mi porto a casa, perché quest'anno soprattutto ho fatto un ragionamento del, ok, io non voglio vivere qua, ma che cosa qua mi fa stare così bene? E perché non me lo posso portare a casa? È chiaro che non lo posso replicare al cento per cento, perché lì e lì, qui e qui. Le circostanze sicuramente hanno un impatto nella nostra vita, ok? Però c'è una parte di lì che non voglio lasciare perdere qui, e che mi porto fortemente qui, che in parte ho già portato. È anche, diciamo, il motivo per cui spesso vivo in una serenità e in una tranquillità che molti mi riconoscono e che dicono, ma come fai? Faccio che ho imparato anche modi diversi, perché poi questo significa viaggiare. Viaggiare, vivere un paese diverso, significa poterne apprezzare la bellezza, ma anche trarne delle lezioni che non dobbiamo dimenticare alla fine del viaggio, ma che possiamo portare con noi. La prima lezione è quella più ovvia, che se tutti voi pensate alla Thailandia e pensate all'Italia, vi viene immediatamente in mente, che è la lezione della meno urgenza. Perché lì sto così bene? Arrivo lì e sento immediatamente questa sensazione di zen, perché lì è tutto caotico, ma è calmo, non è urgente, non è frettoloso. Qui è tutto al contrario, frettoloso. Stamattina ho portato i bambini a scuola, come ogni mattina qualcuno ti suona il clacson, si arrabbia per passarti di un centimetro, per guadagnare quei due secondi, che non sono neanche così preziosi, che ci raccontiamo la storia che siano preziosi. Lì tutto è caotico, ma tutto è lento, tutto è zen, tutto è tranquillo, non è così urgente. Come dicevo, è chiaro che i due stili di vita sono diversi, ok? Quindi non possiamo prendere quello stile di vita e portarlo qua in toto, dobbiamo contestualizzarlo. Però la riflessione che ho fatto è questa. La fretta, ancora prima di essere una circostanza, cioè sono di fretta perché oggettivamente sto facendo qualcosa di urgente, è un'attitudine, è uno stile mentale. E ve la spiego con un esempio, perché questo forse fa capire meglio. Mi è capitato, quindi io sono assolutamente nella giostra con voi di vivere di fretta. Quando mi è capitato qualche settimana fa di portare i bambini da mia mamma un pomeriggio, io e Michael eravamo a casa da soli. Ecco, quando hai dei bambini piccoli, una delle cose che non ti dicono e che a me era scioccato è che la casa non è più tua, perché i bambini sono sempre a casa, cioè non è che li lasci, a meno che non hai i nonni che te li tengono e quindi vanno da loro. Da noi non è una cosa quotidiana che i bambini vanno dalla nonna a giocare, capita ogni tanto. Quindi la casa tendenzialmente è sempre, sempre, sempre occupata dai bambini. Quindi tu vivi in modalità famiglia, non è quel momento di silenzio in casa, di pace, di tranquillità. E tutto il tempo che passi con i bambini sogni di questa pace, di questa tranquillità. Cioè dici, ah, se non avessi bambini che fanno casino così, così magari mi metterai a cucinare quella cena con più calma, mi metterai a fare questa cosa con più calma, eccetera. Allora è arrivato il pomeriggio che sono andati a giocare da mia mamma. Siamo tornati a casa e in quel momento ci siamo sentiti un po' persi e ti senti di fretta. Inizia a guardare l'orologio e dici, quando è che li devo andare a prendere? Ok, ma cosa devo fare adesso? Ecco lo stato mentale, perché in quel momento tu non hai fretta davvero. È come quando vai in vacanza, che ci metti qualche giorno a perdere la fretta della frenesia e quindi ci metti qualche giorno per rientrare in un ritmo un po' più calmo, un po' più leggero. Quindi quella fretta io non ce l'avevo quel pomeriggio, però la sentivo, la sentivo addosso, perché sono talmente abituata a correre e sono talmente abituata a dirmi che tutto è urgente che faccio fatica a rallentare. Allora mi sono detta la prima cosa su cui lavorare è proprio questa attitudine, cioè il chiedermi ma è davvero tutto così urgente? In questi giorni sto camminando un'ora al giorno e qualcuno può dire ma tu puoi farlo, ma perché tu magari non hai un capo che giustamente ti dà degli orari eccetera eccetera, vero? Verissimo. Però ti assicuro che la prima cosa che deve cambiare per cambiare un'abitudine, per me magari una camminata fuori nella natura, per qualcun altro è fare dieci minuti di workout al mattino, di allenamento al mattino, fare una colazione più lenta è il tuo mindset, è il fatto che non è tutto urgente, anzi ti dirò di più il 98% delle cose che facciamo non è urgente, siamo noi abituati a farlo urgente, a renderlo urgente. A volte vedo anche con i bambini che farli preparare, dire dai muoviti, dai che siamo in ritardo, dai mettiti le scarpe, dai quante volte te lo devo dire. Questo continuo a ripetere che siamo in ritardo, che siamo di fretta diventa una assunzione naturale di tutto. La fretta può essere sostituita nel nostro mondo occidentale, che sicuramente è più veloce di un mondo orientale, dal ritmo. Ritmarsi nella propria vita significa essere estremamente intenzionali su quello che ci facciamo entrare nella nostra vita, perché se io faccio entrare poche cose, ma buone, poche cose ma importanti e inizio a essere molto più intenzionale, sui no che dico, sulle cose che faccio, sulle cose che per me sono davvero importanti e le ritmo, mi rendo conto che c'è tanto superfluo e tutto quel superfluo è la nostra responsabilità. Siamo noi a dover lasciare andare il superfluo per poter essere intenzionali, allora riusciamo a vivere meno nella fretta, perché se prenderti un'ora per camminare o mezz'ora per meditare o mezz'ora per fare esercizio fisico o un'ora per leggere, ti sembra uno spreco di tempo, c'è qualcosa che non va e quel qualcosa che non va va ricondotto alle nostre scelte quotidiane. Cosa scegliamo di fare entrare nella nostra vita? Come pensiamo noi alle cose? Tant'è che quando poi noi siamo così di fretta e così affannati, quando ci sono i vuoti, sono vuoti che diventano estremamente e anche tristemente passivi. Sono quei vuoti che riempiamo con i social, sono quei vuoti che riempiamo a scrollare aimless, cioè senza significato, senza senso, sono quei vuoti che dove noi spegniamo completamente, cioè appiattiamo completamente il cervello. Ed è un peccato, perché quando tu ti ritmi e riesci a avere meno fretta, meno atteggiamento di fretta e anche a parlarti del perché non c'è fretta, cioè io ho fatto tanti passi indietro di business quest'anno perché ho detto non ho fretta, cioè non ho fretta di crescere. Sono io che me la impongo la fretta di crescere, ma in realtà non ce l'ho perché se penso alla mia vita da qui ai prossimi 15 anni farò questo lavoro. Mi piace, mi appassiona e deve rimanere così, deve rimanere qualcosa che mi appassiona. Quindi ogni anno non devo raddoppiare. Quello è una metrica dell'ego. Il fatto di fare un passo indietro non mi rende meno brava. È lì il discorso del fatto che siamo figli di una società che ci ha fatto pensare che essere impegnati, che correre e che la fretta sia sinonimo di produttività, sia sinonimo di successo. Al contrario, se noi riusciamo ad avere successo nelle cose che sono davvero importanti, sono poche quelle su cui ci dobbiamo concentrare. Quando sono poche riusciamo veramente a ritmare. Non serve avere fretta, non serve, è un'attitudine mentale. provate a ascoltarvi, a guardarvi come osservatore esterno e vi accorgerete quante volte nella giornata state pensando che siete di fretta e se vi chiedete per cosa non sapete rispondere. Ah, sono di fretta perché devo tornare a casa, devo assolutamente mettere a posto tutto. Perché? Perché davvero? Perché? Perché? O devo assolutamente fare questa cosa? E se sono le cose materiali, se è lo stile di vita, iniziare a chiedersi ma ho davvero bisogno di tutte queste cose? Qua arriviamo su un secondo punto. Ho davvero bisogno di tutti questi appuntamenti? Ho davvero bisogno di tutte queste complessità? Ne ho davvero bisogno? Di incastrare la palestra in quei 15 minuti col panino in bocca mentre mi faccio la doccia e mentre corro sul tapirulan? Ho davvero bisogno di questo? O posso trovare un modo migliore? Che sia più funzionale, ad una vita più ritmata, però più zen, più tranquilla? Rifletteteci. E questo mi porta al secondo punto, che è il secondo punto della semplicità. La fretta deriva dal fatto che tutto è molto complesso e quindi è necessario semplificare. Motivo per cui ho fatto dei passi indietro anche nel business, perché mi ero accorta della complessità inutile. Qua funziona sempre pareto, ma funziona in un modo incredibile, cioè in un modo che ti stupisce ogni volta che ti metti lì a pensare qual è il 20% delle cose che stanno davvero creando valore. In un armadio? In un business? In una relazione? Per il tuo corpo? Eccetera. Quando identifichi questo 20%, il resto dell'80% può essere lasciato andare. Qual è il 20% delle cose che sono davvero importanti nella mia casa? Qual è il 20% delle cose che sono davvero importanti nel mio armadio? Questo ci permette di ridurre perché le cose materiali portano via tempo, portano via spazio, portano via energia e noi ne abbiamo bisogno di questo tempo, spazio e energia. Così come processi inutili nel lavoro? Quando ci troviamo ingarbugliati c'è sempre, sempre un'opportunità enorme di semplificare. Semplifica la tua dieta, semplifica il tuo vestiario, semplifica il modo in cui leggi, i libri che leggi. Oggi dobbiamo sapere tutto di tutto, abbiamo 5 milioni di newsletter che ci spingono a dire adesso devi sapere quali sono i libri di tendenze in questo momento, quali sono le ricette, 10 mila ricette, tutte diverse che poi alla fine sono tutte uguali, però tutte diverse, le devo provare perché questa è carina, perché questa l'ho vista nel reel, ma ho davvero bisogno di 50 ricette per la colazione quando da che mondo è mondo la gente fa sempre colazione nello stesso modo perché è l'unico modo che ti piace. È come i pantaloni neri, trovi il pantalone nero che ti sta bene, quello è, cioè non hai bisogno di 50 pantaloni nero, uno che ti stia bene, perché tanto poi è quello in cui ti senti meglio, quello che ti sta bene, la colazione è quella che ti piace, le cene, quando hai 4-5 cene da cui girare, sono sempre quelle. Quando hai le tue abitudini su delle cose che vanno semplificate, stai meglio nella vita perché ti togli la fatica decisionale. Non voglio avere 10.000 account di moda, mi piacciono, mi piace la moda, mi piace vederla, ammiro chi ha tutto l'accessorio, tutto perfetto, ma ne ho davvero bisogno io nella mia vita? Chiedo, perché magari per qualcuno è sì, ma è veramente sì, cioè è un altro tipo di valori e non è un valore più superficiale, attenzione, però sono persone che hanno bisogno di circondarsi di bellezza, del bello. Se una cosa non è bella, fa fatica a funzionare e quindi deve essere bello, deve essere abbinato, del colore deve dare un certo tipo di sensazione, eccetera. Però per molti altri non è così, quindi chiedersi dov'è il superfluo, il superfluo nel gossiping, il superfluo nello stare in conversazioni inutili, di protrarre dei meeting inutili. Ecco, è lì che dobbiamo fare il 20-80% e questo in Thailandia funziona molto bene perché la vita è più semplice. È chiaro che qua abbiamo le quattro stagioni, lì ce n'è una, quindi non hai bisogno di quattro armadie, hai bisogno di uno. Non possiamo riportare quel modo così semplice qua, però possiamo intenzionalmente semplificare. Il terzo punto interessantissimo è che quando sono lì io sono nella bolla, anche quando vivevo lì, quindi non solo quando sono andata in vacanza che quando uno magari in vacanza si stacca più facilmente da tutto, ma essendo dall'altra parte del mondo inizia a preoccuparti meno di quello che succede al di fuori del tuo mondo. La cronaca, completamente inutile essere informati sul fatto che, soprattutto la cronaca nera intendo, dove c'è tizio che uccide Caio, c'è questo, cioè che volendo o non volendo ti appesantisce e soprattutto tu non hai nessun potere sul cambiamento di questo, quindi essere un po' in una bolla per me è un sinonimo di miglioramento della qualità della vita. Potrebbe essere opinabile che una persona deve rimanere super informata, devi informarti tutti i giorni, devi vedere cosa succede? No, perché la maggior parte delle informazioni, con quelle informazioni devi iniziare a chiederti cosa ci faccio? Cambio qualcosa nella mia esistenza? No. Ho qualche potere? No. Cioè una volta che scelgo le mie fonti di informazioni, posso ridurle al minimo queste informazioni. Il fatto che il caso Ferragni, Fedez sia così pressante su ogni social, su ogni giornale, su ogni piattaforma, uno si chiede ma con quelle informazioni io nella mia vita cosa ci faccio? E uno mi potrà dire, vabbè, dice, ma tanto non è che ha un impatto il fatto che io lo sappio meno, leggicchio qua e là, non è che me ne occupo particolarmente. No, però porta via spazio mentale. La bolla. Quando io sono lì, mi rendo conto che in un paese in via di sviluppo, proprio perché il paese in via di sviluppo ha delle dinamiche diverse, è tutto molto più semplificato, non ci sono questi grandi drammi di cui occuparsi e tu ti stacchi piano piano da questi grandi drammi perché ti rendi conto che puoi vivere una vita diversa, puoi non essere succhiato, risucchiato da tutta l'informazione. Quindi una cosa che sicuramente mi porto e mi sono portata negli anni dalla Thailandia è il fatto di proteggermi, di cercare di selezionare accuratamente quelle che sono le informazioni che io voglio portare nella mia vita, informazioni di politica, di cronaca, di gossip anche, anche informazioni di divulgazione se così vogliamo. Non voglio essere edotta in tutto, non mi interessa passare una vita a ascoltare l'opinione di tutti, avere 500 account che seguo dove ogni giorno c'è o il dramma o la polemica o io penso questo o io faccio questo, guarda come sono bello, guarda la mia vita figa, adesso c'è il divorzio e questo, non mi interessa, lo lascio andare, lo lascio andare e fa tutta la differenza perché se vivo in una bolla in modo un po' più semplificato, in modo meno urgente, capite che la qualità della vita, cioè è vero che sto bene in Thailandia ma se riesco a farlo anche qui inizio a stare meglio anche qui, non mi serve andare a vivere lì per avere queste cose perché sono scelte che posso fare qui. Perché faccio questo piccolo intramezzo, mancano due punti, la nostra responsabilità, cioè io mi sono accorta che sono sempre scappata anche dai miei problemi, nel senso che io ho viaggiato molto e ho cambiato vita tante volte, non serve cambiare vita per scappare dai problemi, anche perché i problemi poi ti ritornano come un boomerang, quindi finché non li affronti, non è che lì troveresti la cura di ogni male, però le cose che ti fa stare bene lì puoi dire me le porto e me le faccio mie e questo fa la differenza ovviamente, fa una grandissima differenza perché non è la Thailandia ma è il modo in cui noi approcciamo perché circostanze diverse ci fanno approcciare in modo diverso, cioè la bolla che io mi creo lì è dovuta al fatto che sono lontana fisicamente, però imparo una lezione che se anche non sono lontana fisicamente posso fare delle scelte diverse e proteggermi un po' di più, ecco dove voglio arrivare, spero di aver spiegato questo concetto. Quarto punto, il quarto e quinto sono quelli che mi piacciono di più perché forse sono i meno introspettivi, quelli più pratici che possiamo iniziare a fare. La Thailandia funziona molto bene per me perché sto sempre all'aria aperta, cioè la vita si consuma all'aperto e per me questo è un valore aggiunto enorme nella qualità della vita e voi direte ma Alice ma cosa stai dicendo qua? Piove, c'è brutto tempo, l'inverno e poi sei a Milano, c'è lo smog, com'è che si fa stare all'aria aperta? È vero, è vero che qua viviamo una vita diversa, però scegliere consapevolmente di vivere magari la pausa pranzo, magari prima di andare al lavoro quando c'è luce, quindi in base all'alternarsi le stagioni o alla sera dopo il lavoro invece di magari anche chiedersi lo sport che faccio, lo faccio in palestra, provare a fare qualcosa fuori almeno una volta alla settimana con la famiglia, avere dei momenti in cui si può andare fuori, fare un picnic, abbiamo perso l'aria aperta, ci viviamo troppo poco all'aria aperta, siamo sempre chiusi e siamo noi a doverci spingere. Ieri mi è successa una cosa, pomeriggio stavo lavorando, c'era un meeting da fare e con Michael abbiamo detto dai andiamo a farlo fuori, che così parliamo, tanto è un meeting di brainstorming, dobbiamo parlare di determinati punti, possiamo farlo in una passeggiata fuori. Sai che fatica a scegliere di uscire, perché sono nell'abitudine che il meeting si fa dietro la scrivania. Adesso questo è un esempio che non è applicabile a tutti, lo capisco, però ci sono tante cose che sono applicabili. Uscire anche quando c'è la pioggerellina, avere la capacità di mettersi un impermeabile e non chiudersi. L'aria aperta fa la differenza, fa la differenza esporsi ogni giorno, fa la differenza stare in natura. Non possiamo fare finta di niente, quindi questo sicuramente me lo porto a casa e intenzionalmente ho deciso che ogni giorno farò del mio meglio per stare all'aria aperta e per fare sì che anche i miei figli stiano all'aria aperta il più possibile, perché quello sono sicura che abbia un impatto positivissimo, poi chiaro lì ci sono 30 gradi del sole, qua non sempre, però si può trovare il modo, si può assolutamente trovare il modo per prediligere sempre in base alle nostre scelte l'aria aperta rispetto al stare sempre al chiuso e fare tutto al chiuso, tutte le cose, anche gli hobby tutti al chiuso. L'ultima, l'ultima cosa che vale per la Thailandia ma per tutti i paesi in via di sviluppo è che hanno ancora un senso grande di community. Mio papà vive in una zona della Thailandia che non è completamente turistica, ce n'è di turismo ma non così tanto e ci è capitato di uscire alla sera e fare dei vicoli proprio di quartieri residenziali completamente thailandesi. Ora quartiere residenziale è pretenzioso perché in realtà sono spesso delle capanne, cioè non tutti hanno una casa vera e propria, magari hai solo le quattro mura e poi il tetto è fatto un po' così a caso oppure non hai neanche le quattro mura, ci sono ancora delle palafitte ed è tutto un agglomerato, non è che dici questo quartiere tutto così, cioè ognuno fa quello che vuole più o meno secondo me. Però la sera li vedevi che erano fuori dalla loro casa ed erano ancora in tanti, cioè vedevi le famiglie o gli amici o i vicini di casa, non lo so, glielo ho chiesto ovviamente, che erano ancora insieme con i cani di strada che facevano parte di questo, di questa community, di questa comunità dove si stava ancora insieme, dove non è, non sei chiuso, barricato, dieci lucchetti che capisco, io ho avuto i ladri in casa quindi sono io la prima chiusa barricata con dieci lucchetti alla sera, però c'è apertura. Allora noi sicuramente nella maggior parte dei paesi d'Italia non avremo più questa abitudine di uscire alla sera nel quartiere e magari parlare tutti insieme, però ricordarci che siamo parte di una community e queste community possono essere i vicini di casa, possono essere i colleghi, possono essere la famiglia ovviamente, una community, gli amici, il fatto di preoccuparci un po' di più degli altri, non siamo più parte dei gruppi, siamo molto individualisti, immaginate il vicino di casa che all'ultimo vi chiama e vi dice scusami poi tenere i miei figli per stasera perché devo uscire, impensabile per la maggior parte delle persone, perché io stasera amo io le mie cose, le mie routine, le mie cose, sono di fretta, sono urgente, domani mattina andrò a lavorare, ma cosa gli viene in mente? Io penso mia madre era la cosa normale, io avevo una vicina di casa che aveva due figlie della mia età, era l'obvietà di chiamarsi e dire stasera mia figlia può venire a mangiare da voi e magari mia mamma aveva quelle due ore di libertà dato che mi ha cresciuta da sola, quindi non esiste più questo, c'è un individualismo incredibile che porta le persone a essere delle isole, siamo dei micronuclei che è magari il nostro micro micronucleo, quindi sto pensando a come essere più community qui, ovviamente deve partire da me perché questa consapevolezza la prendo io dalla Thailandia, la porto, però sono sicura che anche gli altri la cercano, tornare a quella semplicità di relazione, di dire guarda ho fatto una lasagna in più, te la porto, guarda stasera faccio il barbecue, ragazzi volete venire, senza cose troppo impostate, avere proprio quell'idea di sono a far la spesa, avete bisogno vicini di qualcosa, magari te lo porto, piccole cose che però ti danno un senso grande di radicamento, di appartenenza, ovviamente in Thailandia c'è anche la community degli expat, che per chi è stato expat quindi è espatriato dal proprio paese, per un periodo ti accorgi come sei più legato alle persone che hanno fatto la tua stessa scelta, proprio perché sei più solo, quindi essendo tu più solo, essendo tu che sei partito da solo e tante altre persone sono partite da sole, non hai gli amici di una vita, tendi a fare più community, c'era molta più, quando vivevo a Chiang Mai, molta più, più senso di posso chiamare qualcuno in qualsiasi momento per un passaggio, per un aiuto, per un caffè, per parlare e qua non lo posso fare, cioè mi sento che non lo posso fare, mi sento che tutto è molto, ah dobbiamo organizzarci per l'aperitivo figo, che a me poi non interessa, quindi questo è un altro mio problema sociale perché la maggior parte delle cose che interessano le altre persone non interessa a me, però credo che manchi questa cosa, soprattutto tra genitori anche, ed è una cosa che voglio riuscire a fare nel mio meglio e il più possibile, perché penso che anche questo sia un punto che là mi fa stare molto bene, il fatto di sentirmi legata alle persone, siamo stati questa volta ospiti a casa di un amico di mio papà che ha conosciuto lì, expat, ci ha trattato come famiglia, dove tu non devi fare la grande cena, a volte abbiamo l'abitudine vengono gli ospiti, devo allora apparecchiare in un certo modo, fare in un certo modo, certo che lo fai per l'ospite, farlo sentire a suo agio, però fare magari qualcosa in meno in modo da renderlo più fattibile nella quotidianità, quindi fare qualcosa che sia meno pretenzioso, però più intenzionale, per poterlo poi replicare, per poterlo fare, fare in modo che la nostra casa sia anche più aperta agli altri. Non lo so, magari queste cose sto blaterando, direi che dopo 40 minuti, anzi sono ormai 43 minuti di registrazione, vi lascio, però questi sono i punti che ho pensato rispetto appunto alla Thailandia, quello che mi porto a casa per l'ennesimo viaggio, per ora non saremo noi a vivere lì, chissà un domani, insomma non lo escludo, io direi che poi quando finisco di lavorare, bambini sono all'università e tutto, ecco così, un posto a caso per me Michael potrebbe proprio essere quello se saremo ancora insieme, insomma cosa che mi auguro e se avremo la fortuna di arrivare a quello stadio della vita. Mi piace sognare di essere lì in un altro stadio della vita, non è questo per ora, per noi, però mai dire mai. Fatemi sapere cosa ne pensate, se vi siete ritrovati, se avete fatto anche voi magari qualche esperienza da expati in Thailandia o meno o in altri posti, spero che questo episodio vi abbia regalato qualche semino, io vi auguro una splendida continuazione qualunque cosa stiate facendo, vi do un abbraccio e un bacio, ciao, a presto! Grazie a tutti!